Due giorni di mosaico in estemporanea, ma anche di pittura e di musica. In via della bicchieraia, in concomitanza con la fiera dell'Antiquariato di Luglio, è così tornato per la quarta edizione Mosaic Art. Qui tantissima arte in estemporanea, tanti mosaicisti che arrivano dalla Francia, laboratori con i nostri ragazzi di mosaico, di disegno, di pittura, di acquerello, di arte. Arte al completo, arte della musica, con il maestro Massimo Nasorri, è veramente una grande festa per tutti, per noi e per i turisti. Nonostante tutte le previsioni del tempo, ci sono stati molti turisti, molti interessati a questi laboratori in estemporanea e molti che hanno partecipato e hanno portato i loro bambini, quindi piccoli e grandi, a far conoscere quelle che sono le varie arti, che sono comunque sempre affascinanti in estemporanea. In via della Bicchieraia anche una piccola rappresentanza dell'Associazione del Cenacolo degli Artisti Aretini. Stiamo facendo un progetto su Piero della Francesca, quindi ognuno con le proprie tecniche, sia acquerello, matita o anche c'è che dipinge anche ad olio, facciamo delle rappresentazioni proprio su Piero e la vera croce, Madonna del Parto, insomma in maniera libera, a propria interpretazione. Un fine settimana dunque dedicato alle arti nel Centro Storico Aretino, grazie alle collaterali dell'edizione di luglio della Fiera Antiquaria, visitata da tanti aretini e turisti nonostante il timore maltempo. Devo dire che per essere un weekend estivo, siamo a luglio, è andata molto bene, c'è stata parecchia affluenza di turisti, insomma, abbastanza bene. Considerando anche che a Siena c'era il palio, quindi a livello numerico c'è stata parecchia gente, parecchi stranieri e sono contento.